Oggi è stata una tappa molto divertente, in realtà è stata una tappa anche dura per tanti ospiti perché comunque le tappe in pianura per noi sono forse quelle più dure, nel senso che nelle tappe in pianura non abbiamo l'ausilio del motorino perché sopra i 25 all'ora il motorino smette di funzionare, smette di spingere, quindi oggi è stata una tappa totalmente muscolare. Abbiamo tenuto un bel ritmo tutto il giorno, però insomma gli ospiti sono divertiti tutti, sarà un bellissimo clima, quindi questo è l'importante per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.